Buonasera e benvenuti al nostro Tg dalle Vallate. Iniziamo dalla Valtiberina. Il presidente della Commissione Sanità del Senato ha fatto visita all'ospedale di Sansepolcro su invito di una rappresentanza di Fratelli d'Italia. Interessante confronto quello che si è tenuto presso l'ospedale della Valtiberina. Presente il senatore Francesco Zaffini, presidente della decima Commissione Sanità del Senato. Insieme a lui, appartenente a Fratelli d'Italia, gli altri esponenti, il consigliere regionale Gabriele Venere e quello comunale Laura Chieli, all'ordine del giorno l'esame della situazione dell'ospedale di Sansepolcro. Si è trattato di una iniziativa non istituzionale essendo stata concepita esclusivamente da Fratelli d'Italia. L'amministrazione comunale però era presente comunque con il sindaco Innocenti e l'assessore della sanità Menichella, oltre all'azienda USL Toscana Sud. Alla fine dell'incontro abbiamo raccolto quella che possiamo definire la sintesi del senatore Zaffini. È molto importante che l'ospedale venga inserito nell'ambito della rete territoriale regionale o aziendale con un proprio ruolo. Quindi nei percorsi assistenziali previsti dal servizio sanitario regionale l'ospedale di Sansepolcro deve avere un proprio ruolo specifico e fare anche attrazione di territorio più ampio rispetto al territorio oggi assegnato. Vedo questo ospedale ben messo dal punto di vista dell'architettura del presidio, lo vedo ben messo anche dal punto di vista della gestione del presidio, francamente. Oggi la sanità sta cambiando velocemente e con essa stanno cambiando anche i presupposti perché un ospedale rimanga o no. Alla fine la quantità delle prestazioni, la qualità delle prestazioni, il valore economico dei DRG erogati fanno la differenza e quindi in questo senso l'ospedale si deve attrezzare. Andiamo dalla Valtiberina al Valdarno, una mostra, una comunità in mostra, Sanremo Pride 1972-2022. Questo è il titolo della mostra allestita alle fornaci di Terra Nuova fino al 29 gennaio e realizzata da Arcighei e Chimera Arcobaleno. Veronica Vasari del Comitato Arcighei di Arezzo, qui a Terra Nuova è stata allestita una mostra dedicata proprio alle problematiche, ai fatti storici che hanno coinvolto nel corso degli anni la comunità LGBT. Sì, è proprio la prima manifestazione che c'è stata in Italia nel 1972 a Sanremo ed è particolarmente importante proprio perché è stato il primo momento in cui persone dichiaratamente omosessuali o transessuali sono scese in piazza e hanno manifestato contro la scienza che ancora in quel momento considerava l'omosessualità una devianza, una malattia. Qui ci sono sia fotografie della manifestazione, sia riproduzioni di manifesti, proprio i manifesti che vennero utilizzati da attivisti e attiviste che vennero da tutta Europa. Da lì in poi il movimento omosessuale è riuscito anche ad ottenere alcune tutele e riconoscimenti che oggi ci sono a differenza di 50 anni fa. Assessore Barbuti, la mostra allestita qui all'auditorium andrà avanti fino alla fine del mese di gennaio. Sì, infatti abbiamo pensato quando l'abbiamo inaugurata a dicembre che fosse importante mantenerla tutto il mese di gennaio perché si va ad unire al mese che abbiamo dedicato alla memoria, infatti c'è proprio una sezione che è dedicata allo sterminio dell'omosessuale, all'omocausto e quindi ci sembrava importante tenere insieme le due cose. Consorzio di bonifica all'opera sul canale Battagli a Montevarchi, i lavori hanno permesso di liberare alcuni punti del tracciato dalla presenza di sedimenti. È in funzione da molti anni ma nonostante il passare del tempo è in buone condizioni. È il canale Battagli, un corso d'acqua che va dall'opera di presa sull'Arno presso la diga di Levane fino a San Giovanni Valdarno attraversando il territorio dei comuni di Montevarchi e San Giovanni. Il primo impianto risale addirittura al periodo medioevale. Nel territorio montevarchino i manufatti che garantiscono la sua piena funzionalità sono efficienti. Lo ha accertato il Consorzio di bonifica 2 Alto Valdarno. Su richiesta del Comune di Montevarchi nel quadro della convenzione che regola i rapporti tra tutti i soggetti interessati alla gestione del canale, l'ente ha eseguito un accurato check-up dei tratti tombati che si alternano ai tratti a cielo aperto nello sviluppo dell'infrastruttura preziosa per assicurare la fornitura dell'acqua a decine di utenze e per alleggerire il sistema di drenaggio urbano ottimizzando la risposta del reticolo a rischio idraulico. Ad essere sottoposti a controllo sono stati in particolare due manufatti, il sifone sul torrente Dogana e quello sul torrente Giglio che sono stati monitorati con apparecchiature sofisticate. Le ispezioni hanno permesso di osservare percorsi sotterranei sconosciuti. Unico problema emerso la presenza nel sifone del Giglio di accumuli di sedimenti che ne causavano la quasi totale ostruzione. Da qui la decisione di procedere con la rimozione dei materiali. Investimento complessivo per i lavori, preparatori ed esecuzione circa 100 mila euro. Andiamo adesso in Valdichiana. Cortona celebra il giorno della memoria, appuntamento venerdì 27 gennaio alle 11 nella sala del Consiglio Comunale. Dopo i saluti dell'autorità l'attore Gianluca Brundo leggerà alcuni brani dagli iscritti di Primo Levi, Liliana Segre e Joyce Lussu. A seguire l'assessore alla cultura Francesco Attesti ricorderà la figura di Alice Ricciardi von Platen. Von Platen, già cittadina onoraria di Cortona, è stata componente della Commissione Medica di Osservatori del Tribunale Militare Americano al processo di Norimberga contro i crimini nazisti. All'evento parteciperanno gli alunni delle classi quinte del liceo classico e dell'Istituto Tecnico Economico. Andiamo adesso sul lago Trasimeno, interessante scoperta sulle rive del Trasimeno. L'abbassamento delle acque ha portato alla luce quella che con ogni probabilità è una testimonianza di epoca etrusco-romana. Strada sommersa torna alla luce, accade sulle sponde del lago Trasimeno. L'immagine è stata pubblicata sul sito Perugia Today. L'abbassamento del livello delle acque del lago ha riportato in superficie quella che gli esperti affermano essere l'antica via di collegamento fra Chiusi e Perugia. La zona interessata è quella vicino a Sant'Arcangelo di Magione. Il selciato, come osserviamo, presenta alcune pietre disposte regolarmente e altre invece scomposte. L'ipotesi che si tratti di un'antica strada di epoca etrusco-romana è stata valorata dallo storico e ricercatore Gianfranco Cialini. Sul ritrovamento è stata informata la soprintendenza archeologica dell'Umbria, la quale non si è ancora pronunciata. Ci sono alcuni indizi che confermano l'ipotesi di essere in presenza di un'antica strada. Cialini segnala che l'innalzamento delle acque nelle ultime settimane impedisce di vedere con chiarezza il tratto individuato, ma che alcuni studiosi con i quali ha condiviso queste ipotesi hanno confermato quanto da lui supposto. Va aggiunto che tra le stesse pietre sono stati recuperati anche ossa di animali, ferri di cavallo e pesi in coccio di reti da pesca. Adesso dal Casentino anche alla misericordia di Subbiano sono disponibili sei posti per il servizio civile nazionale. Alla misericordia di Subbiano un'opportunità di investire nel proprio futuro con il servizio civile nazionale, lavorando per la comunità nell'assistenza alla popolazione. Sono infatti disponibili sei posti alla misericordia per il progetto di ripartenza Giallo Ciano, con la domanda che dovrà essere presentata entro il 10 febbraio sulla piattaforma del servizio civile nazionale. Per partecipare occorre avere un'età compresa tra i 18 e i 28 anni. Ci sono posti riservati per i giovani a bassa scolarizzazione, vuol dire dalla terza media in giù, ma anche una riserva di posti per i giovani disoccupati per i progetti Ponyong Garanzia Giovani. L'inizio del servizio civile sarà il 21 settembre di questo anno. Sarà corrisposta a coloro che parteciperanno al servizio civile un assegno mensile di 44,30 euro. Le attività che sono previste per il servizio civile alla misericordia di Subbiano sono quelli di autista, dei mezzi dell'associazione, attività di accompagnatore nei trasporti di tipo sanitario ordinario, nei servizi civili, servizi di ufficio, ma soprattutto anche la formazione. Il progetto, quello della misericordia di Subbiano, dà anche una grande opportunità proprio per i giovani che si trovano in questo momento fuori dal mondo del lavoro e che sono dotati di minori opportunità a causa di una bassa scolarizzazione. Un percorso formativo importante in ambito socio-sanitario. È un servizio di cittadinanza attiva, capace di mettere in evidenza l'aiuto come grande risorsa della comunità, sperimentare l'importanza del rapporto umano nelle condizioni di bisogno, fornendo al progetto un ulteriore obiettivo, quello di umanizzare il servizio. Bene, tutto per questa edizione del nostro Tg dai territori. Grazie quindi della cortese attenzione, buona visione e buon ascolto insieme con i nostri programmi. Grazie.